E siamo arrivati a mercoledì 13 marzo, sempre 2019. Oggi abbiamo 21, 15, 9 Power Snatch, Thruster e poi ancora 21, 15, 9 Burpees, Chest to Bar e Dip. Come al solito sulla grafica, le scalature e i pesi, ci vediamo domani per il Team World del giovedì su C per TV.